Trasmettiamo Geriatria in Onda a cura del professor Carlo D'Angelo. Amici di nuovo in ascolto, una nuova rubrica di Geriatria che anche questa volta parte con una considerazione. Io ripeto sempre nella mia attività professionale, ormai ultra quarantennale, la vecchiaia è una fortuna che non tutti hanno e perciò dobbiamo smetterla di lamentarci della vecchiaia dicendo quanto è brutta la vecchiaia, non ne posso più. Pensiamo che vivere a lungo comporta proprio dei problemi e delle patologie che però possiamo evitare proprio per vivere bene. L'invito questa volta ci viene da una ragazza di anni 27 che è morta in Australia pochi giorni dopo Natale per un grosso problema tumorale, il sarcoma di Evig che è un tumore osseo per il quale esistono poche cure e quasi sempre l'esito è in fausto. Questa ragazza di nome Holly ha lasciato in occasione del Natale un suo testamento su Facebook dove ormai tutti quanti scrivono dicendo che avrebbe voluto vivere a lungo, avere una famiglia, vedere spuntare più in là qualche capello bianco, tuffarsi ancora i mari, accarezzare il cane, sposarsi, avere dei bambini, tutto questo non è stato possibile perché una grave malattia, ripeto, ha interrotto il corso della vita. Ecco perché Holly prima ancora di lasciare questo mondo ha voluto raccontarci, ha voluto incoraggiarsi per chiunque abbia letto questo articolo su Facebook perché noi fossimo capaci di apprezzare ogni giorno e ogni momento quelli che sono i doni del vivere, la ricchezza della vita, le piccole cose e non lamentarci quando arriviamo ad una certa età di avere le rughe o i capelli bianchi che Holly non è riuscita mai ad avere, non è riuscita ad avere perché la vita le scrive è fragile, è preziosa e ogni giorno che passa non è un nostro diritto ma è un dono che ci viene dato. Ecco perché dobbiamo amare la vita, essere in debito con coloro che possono soffrire la nostra presenza, non lamentarsi per le cose ridicole, per i problemi piccoli, essere in famiglia con i propri cari, con gli amici e ogni tanto fare un bel respiro e guardare con gli occhi il cielo blu, gli alberi, i prati in fiore. Ecco questo è una fortuna, essere in vita e respirare a qualsiasi età, anche in età geriatrica quando arrivano le patologie. E parliamo oggi di una malattia molto importante che è lo scompenso cardiaco. Le malattie del cuore sono tante, non bastano trasmissioni per trattarle, dovremmo parlare dell'ipertensione, dell'angina pectoris e dell'infarto o dell'embolia polmonare, delle aritmie e ogni tanto andando avanti tratteremo anche queste cose. Cosa vuol dire invece scompenso cardiaco? È una situazione in cui il cuore non è capace di far fronte con la sua agitata sistolica, cioè la quantità di sangue che espelle alle esigenze dei tessuti periferici dei vari organi e di conseguenza si affatica fino andando incontro a uno scompenso. Questa è una patologia molto comune in età geriatrica per tanti meccanismi che sono alla sua base, per tante altre malattie che contribuiscono a originare o a far precipitare uno scompenso già esistente perché il nostro organismo è fatto di più sistemi che insieme interagiscono e molte volte un sistema incide sull'altro. Perché questo scompenso, questo cuore che non va più? Ecco, se qualcuno ricorda una canzone di Rita Pavone di tanti tanti anni fa, lei diceva mio cuore tu stai soffrendo, il giovane che soffre per le prime ansie, per i desideri di avere una compagna, per l'innamoramento. Il cuore dell'anziano soffre per delle patologie che arrivano in età geriatrica ma che sono partite negli centi prima. Pensiamo, io dico sempre, i tubi della nostra lavatrice e della lavastoviglie che si incrostano all'interno e i nostri elettrodomestici che si rompono, le nostre arterie che diventano insudiciate, infiltrate di colesterolo, che diventano infiltrate di calcio. Perché? Perché non sappiamo vivere bene, non sappiamo alimentarci, non sappiamo muoverci. Quando poi arriva l'età geriatrica, quando il cuore ha funzionato a dovere per 60, 65, 70 anni, arriva lo scompenso perché lo abbiamo maltrattato. In realtà lo scompenso è un notevole aumento anche perché è aumentata la quantità e il numero degli anziani attualmente che abbiamo in Italia e nel mondo e sono aumentati anche quei pazienti che una volta morivano per infarto, per ipertensione e che oggi curati vanno avanti e raggiungono poi lo scompenso. Diciamo subito che è una patologia che interessa soprattutto le donne, non perché più fragili come si ritiene, ma perché dopo i 70, 75, 80 anni il numero delle donne è sempre maggiore di quello degli uomini per la loro aspettativa di vita. Lo scompenso in genere insorge dopo l'età media, insorge dopo i 70, 75 anni ed è ancora uno scompenso che interessa poche persone, 3-4 casi ogni mille, ma già dopo gli 80 anni, 85 anni si arriva nel grande vecchio a uno scompenso che interessa almeno 10-12 persone ogni mille. Una malattia che colpisce soprattutto quelli più anziani e le nostre statistiche ospedaliere ci dicono che fra le varie patologie che colpiscono l'anziano il DRG, cioè il raggruppamento del diagnostico 127 che parla di insufficienza cardiaca è il quarto più frequente, è la quarta patologia più frequente nel nostro paese e questo determina notevoli incrementi della spesa sanitaria, dei ricoveri, la perdita di capacità lavorativa perché lo scompenso interessa anche i giovani. Quali sono le cause che portano allo scompenso? Soprattutto nel giovane diciamo che la cardiopatia ischemica, le arterie coronarie che sono rovinate e non ce la fanno più a portare quel sangue necessario per nutrire lo stesso cuore che deve poi pompare il sangue per tutto l'organismo. Un'altra causa è l'ipertensione. Una pompa dell'acqua che deve pompare enorme quantità di liquidi per portarli al quarto, quindi al decimo piano, prima o poi si rovina. È chiaro, quando la nostra pressione aumenta, aumenta notevolmente, non viene controllata e trattata, il cuore compie un lavoro maggiore tutti i giorni e questo porta a uno scompenso del cuore. Ecco perché si dice che l'ipertensione è il killer silenzioso. L'ipertensione ammazza lentamente, in silenzio, senza che ce ne accorgiamo. Controlliamo la pressione, teniamo la bada, quindi ci sono anche delle malattie delle valvole cardiache, delle stenosi o delle insufficienze della valvola orta, mitralica, che fortunatamente oggi vengono operate. Anch'io posso dire di aver avuto dei pazienti ultraottantenni, anche più anni degli 85, che si sono operati per una valvola. Se la valvola non funziona, il cuore compie un lavoro ancora maggiore, si scompensa e si vengono contro a morte. Vi sono anche altre cause che possono dipendere da noi. Pensiamo ad esempio alla cardiomiopatia alcolica. L'eccesso di alcol porta a malattie cardiache, allo scompenso. Molte volte si hanno delle forme che non dipendono da noi ma da altre patologie. Una persona che ha una anemia e non cura l'anemia, che cosa fa? Ha un cuore che lavora ancora di più perché deve pompare quel poco sangue che ha per farlo abbassare a tutto l'organismo. In queste condizioni si scompensa. Così una persona che soffre di ipertiroidismo, malattia della quale prima o poi parleremo ancora, illustrandole, dicendo quali sono le sintomatologie, le cause, l'ipertiroidismo porta a un accelerato movimento, un'attività cardiaca e il cuore si scompensa. Vedete che queste patologie devono essere individuate come tante patologie possono far scattare questa malattia dello scompenso cardiaco. Scompenso che molte volte è presente in forma latente e quando si verifica un fattore precipitante si rivela. Ecco, torniamo a dire il paziente con ischemia, con infarto miocardico, con ipertensione non controllata, con delle aritmie. Il nostro cuore è un organo ultrameraviglioso che funziona più di un orologio svizzero preciso nei suoi battiti, nei suoi tempi, nei suoi intervalli tra sistole e diastole, ma se insorgono delle aritmie e sono pericolose, soprattutto quelle ventricolari, il cuore non ce la fa più a seguire questo ritmo e non funziona e va incontro all'insufficienza, scompenso. Frequente ad esempio negli anziani la fibrillazione atriale che entro certi limiti può essere attualmente corretta con la cardioversione elettrica o con la cardioversione farmacologica, ma anche altre condizioni portano allo scompenso, chiedo scusa, che noi potremmo evitare. Molte sono le patologie da dolori, dell'artrosi, i FANS, cioè i farmaci antinfiammatori che usiamo per togliere il dolore dell'articolazione, sono dei farmaci cardiotossici, sono dei farmaci che possono darlo scompenso. Senza entrare nei meccanismi, diciamo qual è il quadro clinico, il paziente affetto da scompenso cardiaco ha molte volte dei segni che gli stessi familiari, che gli stessi familiari o gli amici scambiano per segni della vecchiaia. Infatti molte volte quando il paziente si presenta più debole, facilmente affaticabile, ha affanno, si dice ma questa è un'espressione della vecchiaia, sta sempre seduto, che volete, è il contrario, perché la stenia, la faticabilità, la dispnea da sforzo e la difficoltà a farle scale sono i primi segni dello scompenso e se noi sappiamo inquadrare questa malattia possiamo correggerla o perlomeno limitare quelle che sono le conseguenze, che sono anche gravi, il ricovero ospedaliero e anche peggio. Non ci possiamo soffermare sui vari tipi di scompenso sistolico, diastolico, diremo soltanto che nei pazienti ultra settantenni, ottantenni lo scompenso è profondamente diverso da quello degli adulti, che sono in genere uomini con cardiopatia ischemica. Nell'ottantenne invece si ha una disfunzione, soprattutto nelle donne, del ventricolo destro e compaiono questi segni che vi dicevo anche prima, segni dovuti in parte all'invecchiamento di un organo che funziona tanti anni, ma in parte a quelle patologie che portano a un'insorgenza dello scompenso. Sicuramente non sarete voi a fare la diagnosi, ci si rivolge il medico, si dice che si ha difficoltà a fare le scale, anche un piano di scale, che durante la notte ci si risveglia all'improvviso perché manca l'aria, che compagno dei segni di stanchezza eccessiva nel muoversi, nel camminare, che si cominciano a gonfiare le caviglie, questo è un segno molto frequente, più dello scompenso destro, in cui si hanno degli edimi, gli zoccoli o le ciabatte non entrano più, le scarpe si allacciano con difficoltà e allora quando vedete che le caviglie sono gonfie, rimane il segno della fove, cioè mettendo un dito si preme ed è come se fosse la sabbia bagnata dal mare, rivolgetevi al medico che saprà suggerirvi le indagini strumentali, la radiografia del torace, l'elettrocardiogramma, l'ecocardiogramma che oggi viene fatto normalmente in tutti gli ospedali e nei distretti sanitari ed esiste anche un esame ematologico, un esame che viene fatto sul sangue che si chiama il dosaggio ematico del fattore naturetico, il PRO-BNP. Quando il paziente è scompensato il dosaggio di questa sostanza aumenta. Sarà poi anche il vostro medico a darvi la terapia idonea. Non esiste una terapia unica per lo scompenso cardiaco, ma esistono più terapie in rapporto in rapporto al tipo di scompenso e soprattutto alla patologia che ha determinato l'insufficienza cardiaca. Sono molto usati dei farmaci chiamati ace inibitori, altri chiamati sartani. In alcuni casi occorre dare più forza alla contrazione, a quello che noi chiamiamo l'effetto inotropo positivo, essendo per allora la digitale, la digossina o anche dei nuovi tipi, dei beta bloccanti cardioselettivi, lo chiamiamo oggi. Sono meno usati i vecchi beta bloccanti, molto usati sono i diuretici. Quando ci troviamo di fronte a una maggiore quantità di acqua che deve essere espulsa. Ma in ogni caso non sarà mai quello che è il paziente a stabilire la sua terapia. Lasciate fare queste cose ai vostri medici. E concludiamo con delle terapie non farmacologiche dello scompenso del paziente anziano. Ecco, bisogna che si comprenda l'importanza e il significato del trattamento per aderire alla terapia. Bisogna che tutti interveniamo su quelle che sono le abitudini alimentari, le nostre abitudini degli anziani, facendo in modo di assumere l'acqua in quantità controllata e soprattutto di ridurre quello che è il consumo del sale, perché sarà il sale ad attirare altra acqua e portare allo scompenso. Dovremmo imparare a correggere l'obesità, la malnutrizione e anche a stenerci da quelle che sono abitudini voluttuali e nocive per la salute. Pensiamo all'abuso di alcol e al fumo di sigaretta che danneggiano il cuore in modo irreparabile. Non viene mai compreso dagli anziani che chi ha uno scompenso e si sente stanco deve muoversi, non stare fermo, sedentario, seduto sulla sedia su una televisione o seduto su una sedia con lo sguardo perso verso il nulla. Muovendosi si possono apportare dei benefici anche al cuore senza dover fare 20 piani di scala, ma camminando in pianura, camminando normalmente. Ricordiamo, siamo ancora in clima, della vaccinazione anti-influenzale e anche della vaccinazione antipremococcica che attualmente è entrata nei livelli elementari di assistenza e che è gratuita per tutti i pazienti ultra 65 anni. Bisognerà anche adoperarsi per delle condizioni che sono correlate con questa patologia, molte volte la depressione peggiora lo scompenso, ma anche e purtroppo la povertà, la solitudine, un ambiente di vita inadeguato. Ecco, se noi torniamo alla parte iniziale, quando abbiamo detto che la vecchiaia non è brutta di per se stessa, è brutta per le conseguenze dei debiti accumulati durante la vita. Cerchiamo allora di comportarci correttamente, di vivere in modo dignitoso, di evitare quelle che sono le conseguenze che possiamo avere per un eccesso di scarsa mobilità, per un eccesso di alcolici, per il fumo che è sempre dannoso, per l'eccesso di sale, per una dieta che in ogni caso spetta a noi controllare. E poi, lo dico sempre, da Radio Speranza cosa dire? dare a tutti una grandissima speranza, pensando che in ogni caso dobbiamo godere delle piccole cose della vita, senza pensare di fare grandi cose, essere sempre contenti. Un invito che viene fatto a tutti i cristiani e ripetuto sempre dal Papa, da Francesco, che ci vuole tutti lieti e contenti. Arrivederci allora a quello che sarà il nostro prossimo incontro. Grazie a tutti.